Ma Coldrin, con quel popò di laurea, non ha ancora trovato un posto di lavoro? Ma è dura là fuori, professore. E poi io speravo in un posto idoneo alla mia laurea. Idoneo alla sua laurea, idoneo alla sua laurea. Ma chi trova un posto idoneo alla laurea? Pensi che io sono lavorato in agraria. Figuriamoci cosa me ne frega della vulcanologia. Eppure all'unica cattedra libera me la sono presa. Coldrin, Coldrin, dottor Coldrin. Senta un po', rifletta. Quanti vulcani ci sono oggi in Italia? Tre. Vesuvio, Etna e Stromboli. E allora? E lo sa quanti vulcanologi escono dagli Atenei ogni anno? No. Cento, che moltiplicato per gli ultimi vent'anni fanno duemila vulcanologi che passeggiano su tre vulcani. Ma vi rendete conto che me li state devastando tutti a furia di andare su e giù? Se lei dopo la terza media fosse andato a lavorare, non avrebbe più di questi problemi.